Buonasera amici del Calcio Magazine, siamo dentro la Tautel Executive, queste sono le due famose porte che andranno a chiudersi alle ore e 23, ovvero tra 4 ore e 24 minuti e quasi 20 secondi, sono le 18.36, noi seguiremo, queste sono intanto le ultime notizie di Calcio Mercato, noi seguiremo il tutto dall'Ata Hotel Executive dove sono presenti tantissimi colleghi, tantissimi addetti ai lavori, questa è la situazione all'Ata Hotel Executive per il Calcio Mercato 2015 che va a chiudersi. Sono le 18.41, mancano poco meno di 4 ore e 20 alla chiusura del mercato, qui vediamo il box dell'Inter, il box della Juve, poi c'è Lazio, Milan, Napoli e via via di tutte le squadre. C'è un grande silenzio, queste sono ore importanti, ore caldissime per il Calcio Mercato 2014-2015, sessione invernale, una delle più scoppietanti degli ultimi anni che va verso la chiusura.